sta arrivando in giro d'italia estel bolognese in festa noi siamo bagnati marci che cazzo sono sti corridori ecco c'è Bitossi, Balmion, Zandegu Gimondi, anche Tille, o c'è Jacques, anche Tille ecco lì che arrivano sono in fuga ecco lì ci sarà anche la maglia rosa no, la maglia rosa non c'è hanno tre minuti di volta tre minuti? due minuti e mezzo il cazzo qui c'è da negarsi, oh, fermo la mula e che arriva il gruppone e che arriva il gruppone avevano recuperato allora ecco l'avevano recuperato guarda, ci sono bagnati ecco qua, buona msonghi aspetta, aspetta, aspetta chi c'è? c'è ancora, c'è ancora vabbè, osta osta, ce ne sono degli altri mosta c'è Merckx vai Gimondi bordel ali, Balma, Mion, Gimondi ecco qua, fine della corsa e fine della bagnata facciamo passare la polizia e poi andiamo vai dai, la polizia, vai ma non ci sono ancora osta, ce ne sono degli altri, cotti non ci sono ancora dai mo ma ragazzi, piova un'acca che Dio la manda stavolta hanno preso la... cazzo ragazzi, vado a casa, io son bagnato mato e non dirlo a me ciao Gionchetta non dirlo a me saluto signora ciao